Io vorrei lavorare sul Romeo e Giulietta e vorrei capire se il testo, questo testo in particolare di Shakespeare, ci può parlare ancora a noi oggi. Prova ad avvicinare la tua mano alla sua, come gliela prenderesti la mano? Grazie. Favolvi vedere. Ciao Giulietta, sono Romeo, ti ricordi di me? A voi importa l'opinione dei vostri genitori rispetto al vostro partner? Voi avete un amico a cui direste qualsiasi cosa? Secondo voi il frate Lorenzo è una persona coraggiosa o è un codardo? Perché uccidersi per amore? Se vuoi farlo, fallo da solo. Però dal tuo punto di vista, dal suo è giusto. Mi suona strano associare questa cosa all'affetto. Lei magari non sa che magari sta sbagliando, come dici tu. Non parlare, non ribattere, non rispondere perché mi prudono le mani, sai? Allora per essere grandi dovremmo ormai aver finito la nostra vita, aver fatto mille esperienze, provato tutto. Giulietta è una ragazza che pensa in base a ciò che lei sente, nel proprio corpo, ciò che lei sente nella propria passione. Lì inizia la modernità. Lì inizia l'io moderno. 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 Grazie a tutti.